Il Cammino Grande di Celestino e il Cammino del Perdono si uniscono con la sottoscrizione di un accordo. Dei cammini, uno più antico, l'altro più recente. La Convenzione nello specifico è tra il Parco della Maiella, che gestisce il Cammino Grande di Celestino, e l'Associazione Il Cammino del Perdono del Movimento Celestiniano. È una sinergia, auspicavo da anni questo discorso. Sapete perfettamente che questo Cammino di Celestino è nato ormai 40 anni fa, 44 anni fa, con il discorso della fiaccola del Fuoco del Morrone. Quindi, ripercorrendo quel cammino, oggi siamo arrivati alla sinergia con il Parco della Maiella e con il Parco del Velino Sirente, proprio per ottimizzare questo cammino giovane del Cammino Grande di Celestino, che si unisce al nostro del Cammino di Celestino, sui passi di Celestino, che, guarda caso, proprio dieci anni fa ha preso le mosse. La maggior parte del Cammino si trova, inoltre, nel Parco Sirente e Velino. L'obiettivo è portare sempre più gente nel Cammino, in modo da farlo frequentare a tanti utenti in maniera sicura. Questo accordo permetterà anche di organizzare meglio la ricettività, di mettere in campo giornate dedicate a Celestino, organizzare la manutenzione dei tratti in comune, creare eventi, iniziative e fare promozione, insomma, rendere il percorso più strutturale. A benedire quest'unione, anche il Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. Mette insieme il Cammino del Perdono con il Cammino Grande di Celestino e quindi rafforza un'idea di approccio al territorio interno della Regione, ai percorsi religiosi e produce un'offerta molto importante a questa nuova domanda di turismo esperienziale. Un turismo colto, un turismo legato alle molte risorse di questo territorio che stiamo vedendo si sviluppa giorno per giorno e sta diventando un vero motore di sviluppo. È una delle infrastrutture su cui noi crediamo moltissimo, insieme ai cammini religiosi, nel trekking e le piste ciclabili su cui noi stiamo lavorando. È un'ottima opportunità per questo territorio e soprattutto per far conoscere le aree interne. Bisogna comunque strutturarsi per essere pronti a ricevere un gran numero di turisti e di pellegrini che già cominciano a fare le prime richieste.